dal sottosegretario Puglisi, è scoppiata la storia di Air Italy, no? Cioè improvvisamente, come un fulmino al Celsereno, e la cosa, diciamo, più preoccupante, almeno io la vedo così, è che governo e sindacati non ne sapevano nulla. Ma è possibile che una compagnia, che serve soprattutto la Sardegna, con mi pare 1.200 dipendenti, salti? Questo è possibile? E che il governo e i sindacati non ne sappiano nulla? Ma com'è possibile? Purtroppo accade, lo abbiamo visto con Whirlpool a Napoli, dall'oggi al domani hanno deciso di chiudere la produzione, e così è accaduto con Air Italy, ovviamente il governo si è attivato immediatamente per farsi carico di questa situazione e iniziare anche lì una trattativa, ma soprattutto per cercare di garantire alla Sardegna i collegamenti che servono e cercare di trattare, di vedere se riusciremo con il Mise a trovare un acquirente. Quindi la fase... Lei lo sa benissimo, ovviamente c'è tutta la partita all'Italia, non ne parliamo. C'è tutta la partita all'Italia, ci sono circa 150 tavoli di crisi aperta nel paese, andiamo incontro ad una transizione tecnologica ed ecologica che senz'altro presenta straordinarie opportunità di occupabilità, ma che appunto con il governo vogliamo affrontare senza creare paure nel mondo del lavoro e dunque ciò che faremo, questo ci siamo ripromessi anche nel tavolo, dove con le forze di maggioranza stiamo vedendo come aggiornare anche l'agenda di governo, dobbiamo creare quella rete di protezione sociale che serve, sto parlando per esempio di nuovi strumenti di ammortizzazione sociale, che sappiano accompagnare non solo le imprese, ma anche le persone e il mondo del lavoro verso il futuro. È una cosa difficile di riqualificare, di formare le persone. Il ruolo della formazione professionale continua credo che sia cruciale, cioè abbiamo bisogno di investire moltissimo nelle competenze delle persone. E anche dei grandi formatori, perché sennò è difficile.